tutti ragazzi avete visto ho cliccato su break friday 70 per cento fatto questo di acquisti poi in fondo ho aggiunto il mio codice sconto qua vengono calcolati codice sconto con il 70 per cento totale 73 e 46 buono sconto alessandro acqui in più ci sono due tre cose in regalo con il mio codice sconto a cielo quindi cosa state aspettando entrate link cliccate sul break friday 70 per cento e scoffer tutti i prodotti quelli che volete aggiungente il mio codice sconto e ricevete altri regali